Chi è? Grandi magazzini signora, c'è un pacco per lei Entri! Cacca Vallo Non potrebbe venire qui lei? A ritirare il pacco, a firmare la ricevuta? No, sto facendo la maionese, non posso smettere, se no impazzisce Venga lei, non abbia paura, non le fa niente, l'ho fatto anche castrare Paura? Oggi maionese perché pesce? Pesce e cane Continui, continui, adesso passi a me Bene, grazie signora, arrivederle Arrivederci E il cane dov'è? No, ancora pure del cane, gliel'ho detto, tranquillo, l'ho fatto anche castrare Ma signora, io il cane non ho mica paura che mi culi, ho paura che mi morda Arrivederci